Io voglio uscire questa sera da questo campo non con una vittoria, nel calcio le vittorie non vengono per caso, io voglio vedere una crescita da un punto di vista comportamentale, tattico, tecnico, concentrati, l'agonismo, la giusta cattiveria, ma non la cattiveria che dobbiamo picchiare gli avversari, c'è quella di farci rispettare in mezzo al campo, di farci rispettare, ok? Poi i risultati vengono da soli, noi stiamo facendo un grandissimo campionato, adesso dobbiamo fare un qualcosa in più di quello che abbiamo fatto finora, ok? Per questo magico gruppo IPIP URA!